Stefano Bezzi Attaccante alla destra A che giocatore ti piacerebbe assomigliare e perché? Zlatan Ibrahimovic E' genio straggolantezza Il compagno di squadra che ti fa ridere di più durante gli allenamenti? Filippo Frisari e Pietro Nardi Quali ritiene essere i tuoi pregi e i tuoi difetti in campo? Allora, i difetti sono un po' troppo confusionari delle volte Ho delle volte un po' lento nella giocata Come pregi, ho il senso del gol e faccio tanti assist Numero di maglia preferito e perché? Mi piace il 7 perché è tipico dalla destra E' il ruolo che mi piace E poi per Cristiano Ronaldo che è un altro grande giocatore Il tuo sport preferito oltre al calcio? Mi piace molto la pallavolo Mi ispira Ivan Zaitsev Materia scolastica preferita o la tua ginnastica? Mi piace il spagnolo Che cosa rappresenta il calcio per te? Il calcio per me è tutto E' il mio passatempo e il mio impegno nella vita Per quale squadra fai il tifo? Inter